Amici di Dizendo e De Borgo, un pomeriggio sant'arcangio lese, un pomeriggio di giovani, andiamo a vedere cosa fanno i nostri ragazzi della città. È bello aiutarli con la base, loro si sentono meglio, vanno più spontanei. Che cosa occorre, quali sono gli strumenti per avvicinarsi a questa tipologia di danza? A noi ci basta un cellulare, un po' di musica, gli amici che ci incitano e la voglia di ballare c'è sempre. Purtroppo non ci sono scuole, noi abbiamo imparato tutti da sola, a casa, basta l'allenamento. La passione ci sarà sempre, questo ballo ci dà molta carica e serve per esprimersi. Dizendo e ho, o. Dizendo e ho, o. Vito! Dizendo e ho, o. Dizendo e ho, o. Vito! E adesso andiamo a vedere uno studio di registrazione, lo studio Big Tings. Siamo qui con Mattia che ci dice proprio due parole su quanto riguarda la loro attività. Ci occupiamo di musica reggae, pop, funk e soul in particolare, ma non chiudiamo la porta a nessuno assolutamente. Nemmeno il rock and roll che tra poco ascolteremo. Nemmeno il rock and roll, esatto. Io mi chiamo Davide Amati. E io Diego della Pasqua. Siamo gli Stone Fire e questo pezzo si chiama While You Go. One, two, three. Siamo tutti. Siamo tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.